Buongiorno, good morning Milano, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti, sono le 7.10 in questo istante di oggi, mercoledì 6 novembre e una nuova giornata inizia, una nuova giornata parte in questo momento con Good Morning Milano ma poi lo sapete tutto il giorno qui su Crystal Radio per farvi compagnia e soprattutto voi potete fare compagnia a noi come semplicissimo 331-78-53555, il nostro numero di Whatsapp, il numero che serve per passare in buona compagnia una mattinata come questa quindi insieme, la possiamo passare proprio insieme come se foste qui di fianco a me, quindi con questo numero di Whatsapp in realtà è come il teletrasporto di Star Trek, cioè voi fate un Whatsapp ma vi ritrovate qui in studio mi comparite sulla sedia qui di fianco e siamo insieme appunto, stiamo insieme tutta la mattinata possiamo raccontarci un po' quello che avete fatto ieri, quello che farete domani se ieri siete andati da qualche parte potete dircelo e raccontarcelo se oggi avete qualche programma per la giornata, se avete già idea di cosa farete magari nei prossimi giorni, nel weekend insomma noi siamo qua per raccontarvi un po' anche quello che ci sono sui giornali ovviamente un occhio rivolto agli Stati Uniti dove le elezioni si stanno, dove sono i scrutini appunto le elezioni che si stanno completando, al momento in testa Donald Trump con 247 grandi elettori contro i 210 di Kamala Harris, ma chissà domani non si sa cosa succederà Il domani non si saprà mai così, tomorrow never knows, i Beatles alle 7-15 minuti e quel domani che non si saprà mai, insomma può essere riconducibile anche queste elezioni dei Stati Uniti in America che secondo me ci danno una notizia molto chiara quanto poco sappiamo degli Stati Uniti, o meglio quanto poco vogliamo sapere degli Stati Uniti perché anche questa volta immagino lo shock, first reaction shock come diceva qualcuno e lo shock di molti di dire ma come, ormai dopo che Biden aveva lasciato Kamala Harris doveva essere ormai pronta alla Casa Bianca, dovevano essere strade lastricate di Kamala Harris e invece così non sembra, allora matematicamente può ancora farcela volendo ma la notizia appunto al momento è che invece Donald Trump è in vantaggio con 247 elettori, grandi elettori contro appunto i 210 di Kamala Harris per vincere ne servono 270, quindi questa è la situazione attualmente ripeto non ne sappiamo niente oppure mi viene più da pensare invece vogliamo sempre raccontare un'America, no? che parla di questa cosa dell'America che è quella roba lì l'America per noi è la California, dove appunto Kamala Harris vince in questo momento pensate con il 60% dei voti rispetto al 37,6% di Donald Trump è quello, è New York, è Woody Allen, è tutta quella roba lì, no? sono le serie TV che guardiamo che sono in mano a un establishment democratico che crea quel tipo di narrazione americana e poi scopriamo che esistono altri paesi, altri stati all'interno degli Stati Uniti come ad esempio il Texas dove Donald Trump vince col 56,6% ma c'è di meglio, c'è di meglio per Donald Trump nel senso che, non so, ci sono altri stati il 65% che in questo momento si porta a casa Donald Trump nell'Aidao ad esempio, no? oppure Nord Dakota e Sud Dakota, 67% contro il 31% di Kamala Harris, no? si porta a casa anche la Florida col 56%, insomma l'idea che abbiamo o che ci viene raccontata o che vogliamo ascoltare perché poi bisogna capire bene anche quello, no? è completamente diversa poi io so che c'è tanta gente in questo momento che invece è ben contenta che Donald Trump sia il prossimo Presidente degli Stati Uniti ma più in generale ho noto anche un po' di ipocrisia anche e soprattutto tra molti colleghi nel magari non schierarsi abertamente dall'una o dall'altra parte ma nel raccontare una possibile vittoria di Kamala Harris come appunto la prima vittoria di una donna afroamericana di una democrazia che finalmente i democratici tornerebbero e dall'altra parte invece è solo il contadino è solo il maschilista, è solo quella roba lì ecco, evidentemente non è solo tutto qui io non sono un politologo io non sono un esperto di politica estera e men che meno di politica degli Stati Uniti d'America da cui sto ben distante per non entrare in questi gineprai molto complicati da comprendere però insomma chi fa questo di mestiere dovrebbe invece magari darci un'ottica un po' più complessa un po' più approfondita non posso pensare che il prossimo Presidente degli Stati Uniti sia Donald Trump e sia semplicemente il Presidente degli agricoltori dei contadini e di quelli che avevano la birra lanciando il tappo nella botte del Jack Daniels non posso pensare che sia solo quello io credo che davvero il racconto sia importante ma ancora di più siano importanti i fatti e troppo spesso noi ci facciamo trascinare dal racconto senza comprendere e senza soffermarci sui fatti che invece sono appunto fondamentali peace by peace Farrell Williams le 7 e 21 minuti qui su Crystal Radio Good Morning Milano parliamo di musica o meglio di quello che è all'atere della musica o meglio di quello che è all'atere di un trapper sto parlando di Baby Gang perché sono uscite le motivazioni della sua condanna e da Repubblica Milano vado a leggere appunto il pezzo condanna a Baby Gang il giudice dice il trapper aizzò i fan contro la polizia per girare un videoclip nel 2021 in piena emergenza covid il rapper chiamò raccolta 300 giovani in zona San Siro per il giudice si servì dell'odio verso le forze dell'ordine per denaro sfruttando la propria celebrità ha chiamato raccolta i fan al fine immediato di provocare lo sconto con le forze dell'ordine e medietà mediato e meditato non sono un errore di filmare poi lo sconto in modo da renderne un videoclip a supporto del brano musicale di cui egli è autore queste sono appunto le motivazioni della condanna non quindi una conseguenza inattesa ma un deliberato obiettivo per il giudice Tommaso Perna nessun dubbio può nutrirsi in ordine al fatto che il trapper baby gang l'anagrafe Zacharia Mohib il 10 aprile del 2021 convocò i suoi fan nel quartiere San Siro violando l'enorme anti-assembramento in quel periodo in vigore per l'emergenza covid proprio puntando sul fatto che le forze dell'ordine sarebbero intervenute e quindi avrebbero partecipato del tutto involontariamente al video musicale che il trapper doveva girare queste appunto le motivazioni della condanna in abbreviato a tre anni e quattro mesi di reclusione per resistenza pubblico ufficiale aggravata e manifestazione non prevista un assemamento sfociato in un lancio di oggetti contro il reparto della mobile della costura intervenuto quel pomeriggio per disperdere la folla di giovani convocata sul social dal 23enne e dall'altro cantante co-imputato che è Nei Maezza per realizzare appunto il videoclip la deduzione osserva il giudice secondo cui il MUHIB appunto baby gang si sarebbe limitato ad invitare la folla a non scappare dunque ad apporre una sorta di resistenza passiva di gandiana memoria appare poco coerente rispetto al dato fattuale quindi dice che insomma non è vero che la gente che abbiano detto no state fermi non muovetevi tutto anzi sembrerebbe che i rapper i due rapper i due trapper abbiano appunto anzi aizzato la folla a prendersela con la polizia così che venisse meglio anche il videoclip cioè sembrerebbe che c'era tutto un disegno dietro a questo quello che più mi fa arrabbiare di questa storia è che i fan di Nei Maezza di baby gang sono andati lì anche spinti realmente da una motivazione più profonda e anche di ammirazione verso i propri beniamini ma anche magari anche di avversione verso le forze dell'ordine che come dire finché non sfociano la violenza ci può anche stare nel senso non è che devi per forza stare sempre d'accollo con tutti ok quando invece diventa violenta no non va bene ma di base non è quello il fondamento principale di questa adunata ma è fare soldi a me è quello che un po' mi fa arrabbiare il fatto che si sfrutti anche la la voglia di ribellione umana normale di magari ragazzi giovani si sfrutti la loro voglia di farsi sentire di farsi vedere anche le loro frustrazioni che possono grazie alla musica uscire beh ecco si sfrutti tutto questo in realtà per fare soldi quindi per fare un videoclip che poi ti fa milioni di visualizzazioni e quindi ti porta tanti click e quindi ti porta a vendere canzoni e quindi ti porta ad avere gli introiti da youtube da tiktok e tutto quello che ne consegue sui social ecco quello mi fa un po' arrabbiare tutti un po' presi in giro da questo mondo della musica che insomma crea questi personaggi che tanto tanto limpidi non sono questo era viola valentino con comprami sempre qui in diretta su crystal radio good morning milano fm 96.2 in tutta la provincia di milano poi il dub plus in tutta la regione lombardia e poi c'è l'applicazione per ios e android in tutto il mondo quindi insomma potete ascoltarci dove volete come potete anche dare magari la vostra disponibilità o la vostra idea o adesso sentiamo cos'altro per la civil week duemilaventicinque buongiorno a Silvia Rapizza del CSV di Milano centro servizi per il volontariato buongiorno Silvia buongiorno buongiorno Fabio e a tutti gli ascoltatori allora perché parliamo di civil week oggi si vuol dire che sarà ricordiamo le date 8.11 giusto maggio esatto esatto allora 8.11 maggio duemilaventicinque ma perché ne parliamo oggi ne parliamo oggi perché questo tardo pomeriggio alle ore diciotto online lanceremo ufficialmente e presenteremo ufficialmente l'edizione 2025 della civil week che come giustamente ricordavi si svolgerà dall'8 all'11 maggio questa è la settimana dedicata al mondo del volontariato dell'associazionismo della cittadinanza attiva insomma al variegato mondo del terzo settore che si dedica alla costruzione quotidiana del beni comuni attraverso una molteplicità di attività e di progetti la presentazione non è solo una presentazione ma anche una chiamata giusto bravissimo questa sera noi questa sera questo tardo pomeriggio lanciamo ufficialmente civil week quindi da domani sarà possibile candidare dei propri eventi e candidare i propri eventi alle tre call che lanciamo questa è una importante novità di quest'anno accanto alla call for events avremo la call per le scuole che torna quest'anno l'anno scorso non era presente e la call bici civica poi se abbiamo tempo vorrei entrare un pochino più nel dettaglio ma certamente anzi perché allora call for events spiega un po' chi si può candidare chi può proporre la propria idea e poi lavorarla e poi portarla a terra come si dice in questi casi chi può farlo e quali eventi possiamo ricordare magari gli anni passati per dare anche un po' di spunto certo certo allora la call for events è aperta a tutti è quella diciamo super inclusiva possiamo dire così perché vi possono partecipare associazioni enti locali gruppi informali scuole fondazioni promuovendo propri eventi che devono essere in qualche maniera connessi al tema non abbiamo parlato ancora del tema di quest'anno quest'anno il tema della civil week sarà l'Europa siamo noi quindi l'anno scorso avevamo parlato di costituzione di sussiderietà quest'anno andiamo a allargare lo sguardo guardiamo a quelli che sono i valori fondanti dell'Unione Europea di cui anche noi siamo portatori in quanto cittadini europei e cercheremo di mettere in luce come anche il mondo dell'attivismo del volontariato del terzo settore contribuiscano concretamente giorno dopo giorno attraverso le loro azioni a mettere a terra questi valori di solidarietà di democrazia di inclusione quindi torno alla call for events tutti possono partecipare quindi enti locali gruppi informali promuovendo un proprio evento che può essere un laboratorio un convegno una performance artistica un workshop ma anche passeggiate per la città eventi aggregativi sportivi che chiaramente noi inviteremo a organizzare in maniera collaborativa cercando di coinvolgere anche più enti locali più enti sui propri territori e a guardare chiaramente a quello che è il tema di quest'anno poi accanto alla call for events dicevi che c'è una call per le scuole giusto? è abbastanza semplice credo questa esatto siamo molto contenti di tornare quest'anno con la call per le scuole che permetterà alle scuole di proporre progetti che vadano a stimolare la creatività e la collaborazione dei gruppi classe per presentare un evento che potrà essere collegato anche alla call for events oppure per partecipare a un concorso artistico che quest'anno è una nuova diciamo una new entry della civil week un concorso artistico che inviterà le scuole e i gruppi classe a diciamo tradurre in forma artistica il tema della civil week costruendo delle targhe che saranno utilizzate poi per la bicicidica targhe per le biciclette che saranno utilizzate in occasione della bicicidica e quindi arriviamo alla terza call terza chiamata appunto bicicidica esatto la terza call bicicidica noi sappiamo che sappiamo insomma chi ha già partecipato sa che la civil week si chiude con la bicicidica che fino ad oggi è stata prevalentemente solo milanese quindi questa manifestazione in bicicletta l'11 maggio sarà ma quest'anno noi vogliamo diciamo vogliamo promuovere un allargamento anche di questo evento quindi vogliamo che la bicicidica diventi un'esperienza diffusa e vada a coinvolgere l'intera città metropolitana quindi invitiamo associazioni enti locali gruppi di cittadini a organizzare sui propri territori delle bicicidiche diffuse quindi che potrebbero svolgersi nello stesso momento quindi nella mattinata dell'11 di maggio anche in altri territori e in quel caso diciamo costruendo degli itinerari che vadano a valorizzare i territori su cui queste organizzazioni operano e vivono quindi per creare anche in questo caso un evento diffuso a cui tutti possano partecipare e simbolicamente siano uniti anche in questo momento di chiusura della Civil Week e allora Silvia dici bene dove possiamo seguire la presentazione dove possiamo poi proporre e rispondere appunto a queste chiamate allora la presentazione sarà online è possibile iscriversi alla presentazione online attraverso il sito della Civil Week quindi andando sul sito posso dire adesso il link allora Civil Week che si scrive Civil Week con due e la k quindi Civil Week trattino meno vivere punto it e attraverso veramente un'operazione molto semplice ci si potrà iscrivere e si riceverà quindi il link per poter seguire poi la diretta di stasera alle 18 invece da domani sarà aperto anche questo sito diciamo saranno aperte tutte le call quindi si troveranno sul sito Civil Week tutte le informazioni per candidarsi alle tre call in un primo momento sarà necessario solamente presentare una manifestazione di interesse quindi attraverso un form online in maniera molto semplice lasciare i propri dati e l'idea che si ha di costruire un evento di partecipare alla BCC o altro e poi successivamente coloro che avranno inserito inviato una manifestazione di interesse riceveranno un link per completare con tutti i dettagli della diciamo del caso che andranno a raccontare insomma un po' più nel dettaglio quello che diciamo l'evento che si andrà organizzando quindi comunque è molto semplice e soprattutto la segreteria organizzativa di Civil Week presso il CSV di Milano sarà assolutamente disponibile a diciamo sia dare informazioni con ulteriori momenti online aperti a tutti ma anche a rispondere a diciamo telefonate mail insomma daremo tutto il supporto necessario chi vorrà partecipare a questo evento diffuso in tutta la città metropolitana che cerca davvero ogni anno di mettere in luce il valore della solidarietà della partecipazione e dell'impegno civico a cui partecipano tanti cittadini e enti della città metropolitana hai detto la cosa giusta ogni anno perché ormai siamo arrivati all'edizione numero ricordiamolo allora diciamo che live è la quarta edizione live ci sono state alcune edizioni online perché diciamo c'era stato il covid avevamo avuto qualche chiaramente difficoltà iniziale se non ricordo male tutto nasce proprio appena prima del covid quindi insomma poi dopo si ritrova le prime edizioni infatti sono state più online ma adesso quarto anno dal vivo quattro anni in presenza quarto anno in cui la città appunto darà il meglio della sua civicità quindi davvero grazie mille a Silvia Rapizza del centro servizio volontariato ricordiamo il sito civilweek-vivere.it questa sera la presentazione e poi da domani tutto quello che è per rispondere alle chiamate corretto Silvia? sì perfetto noi siamo aspettiamo diciamo le manifestazioni di interesse vi aspettiamo ovviamente anche questo tardo pomeriggio e poi siamo disponibili a dare tutte le ulteriori informazioni di cui ci sarà bisogno grazie mille allora e buon lavoro che insomma capisco che la strada sarà anche bella lunga da qua a maggio quindi buon lavoro a tutta la vostra squadra va bene? grazie grazie Fabio e a presto e arrivederci a tutti e buona civil week allora andiamo con la musica adesso e poi torniamo qui in diretta sempre su Good Morning Milano Crystal Radio in diretta Tori Amos con Cornflake Girl alle 7 47 minuti Crystal Radio 331 7853 555 il nostro numero di Whatsapp a cui scrivono tutti come ad esempio scrive anche Alberto che dice un saluto a tutti i cristallini a Fabio alla tua redazione ci risvegliamo con un nuovo presidente degli Stati Uniti e fuori dalla finestra la nebbia ancora questa nebbia che tutti stanno fotografando effettivamente c'è anche un articolo che dopo andiamo a leggere mene dal Corriere anzi un articolo su Repubblica scusate dove dice Milano è tornata la nebbia come negli ultimi 70 anni come negli anni 70 scusate e ritorna il nebbium che diventa il simbolo di una città questo appunto è quello che è stato sul giornale questo è quello che c'è fuori dalla nostra finestra grazie per i whatsapp che state scrivendo dall'altra parte dell'oceano infatti ci risvegliamo con un presidente forse nuovo ancora non c'è la certezza ma in questo momento ancora 247 grandi elettori per Trump contro i 214 di Kamala Harris questa è la situazione appunto dall'altra parte dell'oceano e insomma questa è la situazione che andiamo a seguire questa mattina ma nonostante questo tanta musica questa mattina qui su Cristiano Radio tanta musica che andiamo ad ascoltarci adesso come ad esempio Adriano Celentano con Amore No e quanto la cantiamo questa eh anzi ballatela ballatela Adriano Celentano con Amore No 7.51 minuti Cristiano Radio Good Morning Milano occhio ovviamente ancora sulle elezioni americane occhio su quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano 247 i grandi elettori per Trump in questo momento 214 per Harris 270 il limite appunto superato il quale si diventa ufficialmente presidenti degli Stati Uniti d'America diciamo appunto la nebbia che invece invade la nostra città tantissimi appunto che ne hanno fotografata ma secondo me c'è gente che non l'aveva mai vista cioè la genzetta non l'aveva mai vista la nebbia così forte quindi ci sta che forse rimane anche sui social molto ben documentata Matteo Castagnoli da Corriere della Sera appunto il nostro Matteo Castagnoli quello che è venuto qui che non vi ricordate appunto qui non salutiamo anzi ha scritto un bel articolo ricordando appunto che cosa significa il nebiun di Milano quella che insomma i milanesi lo chiamano la scighiera oppure la nebbia oppure il nebiun quando poi diventa bello forte così c'è anche però l'intervista ad un esperto dentro l'articolo di Matteo di Matteo Castagnoli come dice appunto Lorenzo Tedici del climatologo del Meteo.it la coltre di queste mattine è dovuta ad un'inversione termica all'aria fredda pesante e umida con l'altra pressione si deposita a terra rimane schiacciata nei bassi strati sopra le nostre test infatti sosta un anticiclone gigantesco in realtà ci sono anche delle immagini con un drone sono saliti sopra subito in city life e ci sono i palazzi che sopra in realtà stanno quasi al sole verrebbe da dire nel senso di sopra si sta molto in i piani alti c'è luce sotto c'è la nebbia la cosa interessante a sapere che durerà ancora qualche giorno ma in teoria da sabato poi dovrebbe finalmente passare e tornare tutto alla normalità del periodo o meglio forse in realtà se ci pensiamo bene questa è la normalità del periodo non ci avete mai pensato questo è il nebbium non ci sono le mezze stagioni non c'è più l'autunno e invece eccolo qua l'autunno torna il nebbium torna Milano è quella dei famosi film degli anni 70 con la nebbia con la scighiera che fa bene niente Imagination Just and Illusion alle 8 e 10 minuti Good Morning Milano sempre in diretta ve lo ricordo sugli FM 96.2 sul Dub Plus in tutta Lombardia e poi ci sono anche le applicazioni per iOS e Android nel sito internet crystal radio punto it buongiorno al nostro ospite di oggi gradito ritorno io almeno una volta all'anno se non almeno due o tre lo voglio qui e per fortuna eccolo qui con noi Bob Fantucci buongiorno buongiorno e buona giornata a tutti il teatro Guanella torna a trovarci sono contento oramai è un appuntamento come Natale una volta tanto arriva sono le feste comandate Bob quando arriva arriva così esatto e quando arriva arriva ci porta come sempre tutta la lunga programmazione il grande cartellone ben pregno di appuntamenti del teatro Guanella sì l'ottava stagione ottava stagione perché ricordiamo per chi si fosse collegato solo in questo momento come dicevano i casi ottava stagione perché perché otto stagioni fa tu e un altro manipolo di Matti perché questo è la verità cosa avete combinato? un altro manipolo di Matti ci è stato chiesto di gestire questo teatro appunto il teatro Guanella che era chiuso da 15 anni e quindi noi ben entusiasti perché ci piace ricordarlo come compagnia teatrale siamo nati al teatro Guanella 51 anni fa e voi c'eravate già stati lì avevate ben frequentato poi a un certo punto ognuno prende le sue strade il teatro chiude più o meno nel senso chiude ma rimane lì nel senso ecco c'è di buono questo perché qui a Milano quando chiudono poi un attimo che spostano tutto invece no chiude ma rimane lì nel 2000 e mi dicevi 17 17 così anzi fine 2016 ci viene chiesto di dare una mano a gestire e a riaprire questo teatro noi ben felici e ci siamo buttati in questa avventura ecco e ci tengo a sottolineare che secondo me è un valore aggiunto in questo caso come tutta questa azione viene fatta in maniera volontaristica totalmente volontaria per quello perché questa è la cosa straordinaria della vostra operazione nel senso che arriva qualcuno e dice guarda no questi sono 190 milioni tenete fate tutto e tenetevi le metà per voi allora dice vabbè quasi quasi ci penso allora ciao non c'ho una lira c'è un teatro da rimettere in piedi vi va di farlo e voi avete risposto sì se ci portate se ci portate qualche euro intanto che lo rimettete in piedi siamo contenti ed è successo così è successo così però la cosa bella è che fin da subito e adesso ormai ben ben consolidata insomma il pubblico la zona Milano in generale poi ha risposto bene sì devo dire che ha risposto bene dopo un iniziale zoccolo di spettatori di zona a questo punto siamo gli abbiamo persi fra virgolette gli spettatori di zona nel senso che sono diminuiti è la gentrificazione anche del teatro pensa esatto mentre naturalmente ci siamo aperti un po' alla città e alla periferia vicino alla città questo mi piace dire grazie un po' alla programmazione che facciamo che varia variegata è molto varia c'è veramente di tutto infatti adesso poi abbiamo qui un po' il vostro programma il vostro bel quadernetto che tutti gli anni arriva intorno a questo periodo anzi anzi siamo già in ritardo giusto perché è già iniziata la stagione quando è che è iniziata? il 19 di ottobre con che cosa avete aperto il sipari quest'anno? Dancing Queen il musical dei cuori con le ali che cavallo di battaglia del Guanella mi sembra sì già visto già sentito più volte è uno spettacolo molto coinvolgente la gente si alza in piedi canta balla proprio perché le musiche sono molto trascinanti e a proposito di apertura la città è tutto al 33178535555 che è il nostro numero di whatsapp ci scrive Marilena che dice ciao Bob verrò sicuramente a teatro questa stagione quindi vedi è una promessa ecco vedi quindi abbiamo già la prima che verrà ad ascoltare e a vedere qualcosa sul palco del Guanella che divide il suo programma in uno due tre quattro cinque mi sembra giusto cinque macro categorie quattro macro categorie più una che quest'anno è un un evento molto 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 particolare ok diciamo solo i titoli così delle categorie prosa bambini musical concerti e poi c'è un evento speciale di cui ci parlerai fra pochissimo subito dopo la prossima canzone che è Gali con Niente Panico lo stesso Niente Panico che poi vi spieghiamo tutto anche noi Gali con Niente Panico qui su Cristian Radio Good Morning Milano stiamo parlando con Bob Fantucci appunto del Teatro Guanella della stagione 2024-2025 del Teatro Guanella ottava stagione nelle vostre mani che vede appunto la solita divisione che però è sempre più alto sto guardando più pagine perché appunto chiediamo prosa bambini musical concerti da dove vuoi partire lascio a te lascio a te magari appunto dici quello che succede adesso ma comincerei con allora questa settimana c'è sabato e non domenica sabato alle 16 uno spettacolo per bambini che cantiamo insieme appassionatamente musical dei cuori cuoreali di sempre che ormai hanno occupato hanno occupato ormai hanno colonizzato occupai Guanella hanno fatto però no sono tantissimi sono una bella compagnia numerosa sì una bella compagnia numerosa che si massacra di spettacoli devo dire la verità si massacra di spettacoli e la cosa che mi lascia sempre molto affascinato che sabato fanno da noi cantiamo appassionatamente domenica fuori Milano fanno un altro spettacolo per bambini completamente diverso quindi loro si tolgono il cappello il costume dopo tre settimane fa che hanno fatto Dancing Queen sempre da voi esattamente dopo che fra un mese fanno la scopata in Buon Natale sempre lì da voi cioè sto vedendo ne hanno veramente ma come fanno io e qui devo dire saranno anche le fiabe a gennaio cioè qui io riso che entro e invece di Babbo Natale parlo di Dancing Queen un attimo se fossi io sul palco entro con la parrucca bionda al posto del vestito Babbo Natale io sarei pessimo qui è l'abilità del regista che è Fabio Russi che è molto istrionico e capace di far variare i suoi attori dico in tempo reale perché è vero praticamente eh sì infatti cos'altro poi non dobbiamo perderci oltre tutto il resto ma che sono magari qualche anche novità della stagione qualche nuova proposta allora abbiamo delle novità quest'anno in stagione sia come prosa tipo per Natale il 14 di marzo scusatemi il 14 dicembre perdonatemi Parenti Serpenti che è la trasposizione teatrale del classico film che più o meno non dico tutti conoscono ma quelli della nostra generazione sì ti svelo un segreto a casa mia c'è la tradizione di guardarlo tutti i Natali ecco è un film molto bello un po' crudo perché il finale è sempre il finale un po' così e questa è la trasposizione teatrale Parenti Serpenti questo mi piace anche il nome della compagnia teatrale gli improvvisati mi piace già gli voglio bene altra compagnia che oramai una volta all'anno presenta uno spettacolo al guanella poi abbiamo in marzo sempre di prosa problemi di coppia che è la versione del al femminile del ok della e non lo so in modo di memoria la strana coppia bravo grazie ho letto e non lo sapevo ho letto della strana coppia e questo direi per la prosa poi altri spettacoli di prosa fra i quali il nostro solito cammeo della nostra compagnia che tutti gli anni fa uno spettacolo anche quest'anno quando lo fate cosa fate? facciamo il 22 febbraio il matrimonio era ieri una commedia assolutamente divertentissima e molto ironica con tutta una serie di personaggi ci sei anche tu io faccio il regista sei tu quello dietro nella foto che non si vede per metà mi chiedevo perché fossi dietro solo per metà perché in effetti il palco è loro fammi vedere dove è non l'ho trovato ho visto la faccina che sbuca fuori dietro sono io perché tu sei il regista di questo spettacolo istrionico anche tu come regista mi attengo abbastanza al testo ma con un po' di caratterizzazioni dei personaggi perché i personaggi sono molto caratterizzati e molto calati sul quotidiano cioè un matrimonio quindi c'è la wedding planner la suocera la mamma dello sposo tutti questi personaggi che interagiscono tra di loro in modo più o meno normale divertente vorrei chiedere vorrei fare la stessa domanda agli attori che saliranno sul palco guidati da te per capire se sei un bravo regista o sei severo diciamo che sono un regista tollerante tollerante fino a che a un certo punto dico ragazzi però adesso almeno la parte a memoria salla ecco quello anche quello ti dico già sarei pessimo non riuscirei a prendere memoria manco il titolo dello spettacolo quindi questo appunto dicevamo tutto questo al teatro guanella teatro guanella che ha un sito ricordiamolo perché magari chi si sta ascoltando in questo momento diceva ma io vorrei approfondire vorrei magari leggere bene il programma qui noi abbiamo cartaccio in mano ma si trova appunto anche sul sito oppure se andate al teatro lo trovate lì giusto? sì certamente il sito qual è? www.teatroguanellamilano tutto attaccato tutto minuscolo punto com ok e su lì ci si può anche i biglietti sì 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 i biglietti le sinossi degli spettacoli gli spettacoli fuori stagione ci sono gli abbonamenti anche sto leggendo che quest'anno ce n'è qualche uno in più con molta fatica però tutti gli anni un po' di abbonamenti aumentano quando saremo grandi probabilmente vivremo di abbonamenti che poi vi dico insomma l'abbonamento costa meno cioè guardate che sono dieci ingressi cento euro cioè dieci euro dove vai Milano? costa di più il cinema? sì sì no costa di più tutto dove vai? dieci euro costa di più uscire di casa quasi che veniva che veniva al teatro dieci euro ma veramente non fai più niente a Milano stavo girando un bel meme in questi giorni un video su TikTok dicendo cosa puoi fare con dieci euro a Milano iniziamo una giornata con dieci euro colazione dieci euro fin dalla giornata basta il concetto era quello va bene andiamo con un po' di musica poi torniamo qui ancora con Bob col teatro Guanella perché mi piacerebbe sapere anche un po' però cosa avete in serbo con questi eventi speciali insomma c'è un evento speciale meno racconti subito dopo la prossima canzone che sono gli ACDC con Highway to Hell sempre qui in diretta Good Morning Milano Crystal Radio Clementino parlo e te parlo e te non so non lo so prima volta che ascolteramo questa canzone è uscita uscita l'altro ieri quindi insomma nuova nuova ce l'ascolteremo e la capiremo meglio nelle prossime settimane Bob allora abbiamo detto che ci sono divisioni no bambini prosa musical concerti ma c'è anche un evento speciale cos'è questo evento speciale? sì è un evento speciale che il teatro Guanella meglio sì il teatro Guanella ha voluto organizzare in occasione dell'anno santo che ci sarà l'anno prossimo chiamando questo gruppo internazionale che sono i Gen Verde Gen Verde gruppo molto conosciuto negli anni settanta e anche ottanta il Gen Verde è il gruppo più grosso il Gen Gen Rosso è il gruppo più grosso il Gen Verde invece è il gruppo puramente femminile con orchestra cantanti e anche un po' di ballerini che portano avanti una serie di temi fondamentali quali vabbè la solita la pace che in questo momento non c'è assolutamente bisogno non dalla per scontata la solita pace sì dico la solita pace perché in questo momento mai come in questo momento siamo su una bomba orologeria in ogni senso 19 artiste provenienti da 14 nazioni differenti cavolo di fatti sono molto sudamericani anglosassoni asiatici è un gruppo molto amalgamato che comunque universalmente internazionalmente è molto conosciuto abbiamo voluto fare questo evento speciale inserito nella nostra programmazione ma fuori dalla stagione vera e propria quindi un evento fuori stagione che sarà quando? fra poco il 19 novembre con due spettacoli uno alle 18.15 e uno alle 21.15 ah ok quindi due spettacoli di questi di Gen Verde in versione acustica leggevo appunto leggevo qui nella vostra brochure da 50 anni in giro per il mondo con più di 1500 spettacoli e concerti 70 album prodotti in nove lingue e in complesso in tutto tra Gen Verde Gen Rosso e le varie generazioni anche che sono passate 147 componenti tra musiciste cantanti attrici danzatrici insomma tutto veramente non sembra ripeto è veramente un gruppo che ha fatto la storia del musical mondiale mondiale e tutto questo alterato Guanella insomma come appunto come dicevamo prima insomma si magari si è persa un po' a volte la dimensione di quartiere certe cose ma insomma si guadagna una dimensione internazionale che fa capire come anche un teatro che è gestito da volontari che ha pochi soldi che ha i margini della città perché non è proprio in centro e tutto bene quei banchi non contano nulla quando poi si va a vedere la programmazione insomma è questa la forza assolutamente sì forse c'è un po' di fatica ecco quello in più magari sì però poi la soddisfazione di una stagione che va bene quando esce la pubblicazione all'inizio generalmente a settembre di tutta la stagione immediatamente abbiamo il il polso di quelli che ci dicono quest'anno avete fatto una bella programmazione oppure ma quest'anno la programmazione mi lascia un po' perplesso ecco quest'anno devo dire sinceramente che davanti alla programmazione della stagione 24-25 del Canella abbiamo avuto solo delle sensazioni positive positive un punto solo abbiamo volutamente ampliato la parte bambini perché la parte bambini ci sta dando delle grandissime soddisfazioni quindi gli spettacoli da sei all'anno sono diventati nove proprio perché e allora dopo la prossima canzone mi racconti bene di questo mondo degli spettacoli che sono da sei a dicevi quest'anno a nove no negli anni no no negli anni dipende da sei spettacoli a nove spettacoli insomma non male insomma non volevo dire quanta di più percentuale ma non lo so non sono matematico non lo so dire voglio dire un x per cento in più ma 30 credo sia era facile infatti credevo anche io fosse il 30 più o meno ma non volevo sbilanciarmi troppo perché poi dopo la matematica è una cosa sconosciuta si completamente assolutamente lo sa benissimo la mia mamma il mio papà e soprattutto tutte le maestre professori che ho avuto nella mia lunga e fallimentare carriera scolastica non fate come me in questo caso proprio è don't try this at home click boom Rose Villain 8 e 42 minuti Cristiano Radio qui a parlare del Teatro Guanella insieme a Bob Fantucci abbiamo detto appunto della divisione tra prosa bambini musical concerti abbiamo parlato anche dell'evento speciale dei gen verde del 19 ho detto giusto 19 novembre 19 novembre giustissimo doppia doppio spettacolo 18 e 30 e 21 e 15 ma adesso parliamo appunto di questo mondo degli spettacoli per bambini che appunto da sei spettacoli della scorsa stagione sono passati a nove in questa stagione sì con degli spettacoli differenti tra di loro è un po' un tentativo che quest'anno abbiamo fatto rivolto proprio ai nostri noi li chiamiamo cuccioli che poi in effetti sono i cuccioli che vengono accompagnati dai genitori quindi alle volte sono anche i genitori che spingono i bambini a venire a vedere gli spettacoli da noi quindi oltre alla le rappresentazioni dei cuori con le ali quest'anno abbiamo un'altra compagnia che si chiama Soia che ci ha presentato già uno spettacolo ce ne deve presentare un altro il primo di dicembre e un altro in marzo molto molto frizzante mi stavo guardando adesso il primo di dicembre fanno SS principesse e c'è proprio un disclaimer scritto per tutta la famiglia perché poi il concetto è quello anche nel senso che io adesso diciamoci la verità ma io papà ma che voglia c'ho di vedermi le principesse ste robe qua cioè bravo si ok va tilde ti porto va bene invece cerchiamo di tirare in mezzo anche poi i genitori che accompagnano perché o perché ci sono delle canzoni che fanno parte della nostra vita passata o i costumi i balletti le interpretazioni catturano anche gli adulti quindi è proprio veramente uno spettacolo per famiglie lo spettacolo per bambini è uno spettacolo per famiglie beh è meno male niente a dire è una modalità più interessante appunto poi insomma se si trova bene se anche da parte non cucciola della famiglia si trova bene magari torna a vedere anche qualcos'altro poi esatto e questo è quello che succede sempre più spesso invece parliamo di concerti cosa abbiamo quest'anno di concerti abbiamo il 23 novembre un omaggio Ornella Vanoni con un gruppo che è già stato da noi e ha già fatto uno spettacolo simile gruppo Mamì sì Mamì 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 40 di 40 no San Bittura con una cantante molto molto performante devo dire una bella voce l'8 febbraio i Quater Stagion che sono un gruppo di quattro fuori di testa diciamo così che canta in milanese canzoni un po' classiche però in milanese con i testi loro un po' canzoni in milanese create scritte proprio da loro Passo Duomo Passo Duomo li conosciamo li conosciamo li conosciamo hanno suonato anche una finale al punto dei Milano Storytelling Awards quindi siamo molto contenti di rivederli anche loro sono bravissimi poi sono i musicisti e quest'anno questo è lo spettacolo nuovo che hanno e quindi lo presentano e da ultimo il 29 marzo Betsy Evergreen con un numero di musicisti non il quartetto già nella foto vedo che dovete soppalcare il palco mi sa non ci stanno soprattutto per gli strumenti che sono veramente tanti immaginate una big band una swing big band di quelle da film per intenderci quella scena finale dei Blues Brothers in cui c'è tutta quella band dietro che suona vestita bene ecco quella roba lì e quindi il 29 marzo tanti concerti Bob abbiamo dimenticato qualcosa? per quanto riguarda bambini e prosa no non abbiamo dimenticato musical musical ci sono due novità veramente due belle novità dimmi una il 16 novembre il grande show che è uno spettacolo di una compagnia sette pari veramente come dire giovane frizzante preparata bene performante che presenta il grande show che non è nient'altro che è lo spettacolo The Greatest Show in sostanzialmente circa bam e invece la prima assoluta su tutto il territorio nazionale mondiale internazionale il 12 aprile sempre con i cuori con le ali questa opera perché non si può definire un musical non si può definire una prosa è proprio un'opera che assassino delitto sul treno express come capite dal titolo e dalla mia gaff sapete benissimo a questo punto che cos'è ogni riferimento è puramente voluto voluto è un'anteprima prima assoluta con un'interpretazione di anche scenografie e brani molto come dire molto complessa ma molto messa bene la famosa messa in scena qui è stata bene Bob siamo arrivati alla fine quindi ricordaci le coordinate per venire al teatro per conoscere il teatro per seguire il teatro così che tutti quanti possiamo adesso dare seguito a quello che leggiamo appunto in queste 20 paginette importanti che ogni anno ci porti qui allora ridò il sito che è www.teatroguanellamilano.com tutto minuscolo e tutto attaccato do il numero di telefono che è 370 12 17 473 per informazioni biglietti e quanto e quanto fa spettacolo ok e poi la possibilità di acquistare i biglietti direttamente con Vivatica e scegliendovi il posto ah pure non dimentico da ultimo due cose interessanti il parcheggio gratuito bravo che non è da sottovalutare e il bar che abbiamo a disposizione all'interno del foyer ok io poi volevo anche ricordare gli abbonamenti si faccio io per te Bob grazie mi sembra giusto ricordare anche tutti gli abbonamenti che vi dicevo nella versione più conveniente sono 10 ingressi a 100 euro oppure sono 5 ingressi 55 se no potete prendere anche la poltronissima insomma a spendere tanto spendete 140 euro dove andate da nessuna parte quindi insomma questo è quanto quindi potete trovare in via Dupre a Trattacuanella zona lì in fondo McMahon vicino al ponte Aghisolfa semplicemente arriva pure il tram quindi insomma non avete problemi per arrivarci no non c'è il tram no stanno rifacendo i binari del 12 per cui c'è c'è sostitutivo bene Bob grazie mille grazie a tutti voi buona giornata e a presto 8 e 54 minuti di oggi mercoledì 6 novembre siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Milano grazie a tutti voi per averci seguito anche questa mattina e soprattutto se vi siete persi qualcosa lo sapete benissimo c'è il nostro sito goodmorning.milano.it sempre pronto e disponibile a darvi tutto quello che produciamo la mattina qui in pillole o la puntata completa o il focus periferi insomma abbiamo tutto quello che volete c'è pronto per voi per essere ascoltato oppure potete andare anche su Spotify o su Apple Podcast e ascoltarci in versione podcast dopo di noi c'è Ambrogio Curto invece alle 9.05 dopo il giornale radio arriva lui con senti questa si mette lì dietro il microfono con le cuffie in testa con pronti i suoi vinili al suo fianco per farvi ascoltare della gran bella musica ma soprattutto per raccontarvela per darvi tutto quello che è il vero racconto dietro la grande musica nazionale ed internazionale Ambrogio Curto alle 9.05 con senti questa le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Silvia Rapizza di Bob Fantucci e poi qui Fabio Ranfi al microfono in regia Josef grazie mille per il tuo aiuto e grazie anche alla redazione che questa mattina è un po' malata ma c'è a domani mattina invece tutti insieme qui dalle 7.09 con Good Morning Milano ciao ciao a domani